Una seconda parte di ritiro ricca di impegni per i viola, tra incontri con i viola club, ieri sera quello di Lorenzo De Silvestri, e impegni istituzionali, sempre ieri sera. Infatti è stato offerto ai dirigenti e alla squadra un aperitivo di benvenuto tra le splendide colline del Mugello. Sul campo da stamani si prosegue ancora la lunga e intensa marcia di lavoro, intrapresa ormai già da tre settimane o poco meno. Nello specifico i gigliati hanno lavorato a gruppi dividendosi tra campo e palestra alle 18, in programma il calcio d'inizio dell'amichevole tra Fiorentina e Gavorrano. La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming su Viola Channel. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.